Benvenuti al nostro TG Sport. Cari amici di Telemolise, per il calcio di Serie D ieri pomeriggio il Campobasso ha battuto in trasferta il Notaresco con il punteggio di 1-0. Gara valevole per i 32esimi della Coppa Italia. E la testa di Leonardo Nonni a qualificare il Campobasso ai 16esimi di Coppa Italia di Serie D. L'avventura del Notaresco invece finisce qui in un pomeriggio nel quale Bruno dà spazio alle seconde linee in attesa della trasferta di Vasto Girardi di domenica. Primo tempo con un Campobasso decisamente più in palla, anche perché con una formazione meno rimaneggiata del Notaresco. Rasi a sinistra approva la sgroppata al quinto, chiusa da Campestre. Sempre suo è il diagonale al settimo, debole, controllato da Santarelli. E il birario Mancino, quello battuto più di frequente dai molisani. Da lì, al ventesimo, spiova il traversone di Corvino, che ricamato corregge in modo approssimativo. Il numero 10 disegna da corner a metà frazione, la rispinta corta e preda del sinistro impreciso di Maldonado, alto sopra la traversa. Il Notaresco si vede per la prima volta al ventottesimo. Braghini trova il corridoio verticale per Patrizzi, sinistro debole sul primo palo, controllato da Esposito. Sulla sfonda opposta Santarelli è attento quando sventa un retropassaggio avventato e corto di antezza su cui Ripa era già in agguato. Campo Basso che fa le prove generali del vantaggio al 53esimo con Lombari, lanciato da Ricamato, diagonale, disinnescato con i piedi da Santarelli, che nulla può però al 57esimo quando Corvino, da corner, pesca la testa di Nonni, libero di girare in rete il pallone del vantaggio. Bruno inserisce Ragnere e Scipioni prima, Bonfiglio poi, per ravvivare un Notaresco che crea poco e anzi rischia grosso al 73esimo quando proprio Bonfiglio è troppo leggero nello scarico, a Bonchelet frana su campestre ma per l'arbitro in maniera regolare, liberandosi per il diagonale respinto ancora da Santarelli, che si salva qualche istante più tardi quando Maldonado indirizza male il tocco sottomisura. Ancora Molisani con la testa fuori di Rasi, mentre al minuto 85 e Braghini con una conclusione volante ad impegnare Esposito per la prima ed unica volta nella ripresa. Abreu al novantesimo appena entrato potrebbe scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori e chiudere la contesa, ma in ripartenza manca il colpo del K.O. col sinistro, debole un paio di minuti dopo il tentativo di Bonfiglio da posizione defilata. Di poco larga invece quella di Di Nardo al terzo minuto di recupero. Finisce dunque con la qualificazione molisana e il 15 novembre i sedicesimi di finale saranno contro il Fano. Il Notaresco invece guarda già alla trasferta di Vasto Girardi. La rete messa a segno da Nonni ha concesso ai Lupi di staccare il pass per i sedicesimi ancora in gara secca a Selvapiana esattamente il 15 novembre contro il Fano. I match d'andata e ritorno sono previsti soltanto a partire dalle semifinali. Termoli, Vasto Girardi ed FC Matese hanno avuto più giorni per preparare la settima giornata di campionato rispetto al Campobasso, unica con il favore del campo domenica prossima il Vasto Girardi. Buona prova del Campobasso nei 32esimi di Coppa Italia. Notaresco è il secondo successo della gestione per Golizi. Vale anche il passaggio del turno ai sedicesimi di finale. Il tecnico ha voluto confermare buona parte dei giocatori scesi in campo con il Senigallia, fatta qualche piccola eccezione. Una scelta tesa a dare continuità alla squadra, a prescindere dalla qualificazione, che era un aspetto secondario. Dobbiamo segnalare anche la seconda gara consecutiva senza subire reti, un segnale importante che porta maggiore fiducia. Due giorni per preparare la trasferta di Sora, un'altra sfida di assoluta importanza per i Lupi. Il Campobasso deve recuperare il terreno perso e riprendere la marcia con continuità nei risultati. Certo, la trasferta sul sintetico del Claudio Tomei è sicuramente complicata. Il Sora è una squadra ancora da scoprire. Nei numeri possiamo notare, però, una certa quadratura. I bianconeri segnano e subiscono poco. Delle cinque reti subite, ben tre sono arrivate all'esordio contro la San Benedettese e, come sappiamo, spesso la prima giornata può riservare sorprese. I rosso-blu sono chiamati ad una prova maiuscola. I due successi consecutivi sono segnali positivi, ma ora serve la conferma per capire davvero se il periodo nero è alle spalle. Rientra Corvino dalla squalifica. Bisognerà capire dove mister Pergolizzi rinuncerà ad un senior per permettere il rientro dell'attaccante se in difesa oppure a centrocampo. Settimana importante per il vasto Girardi in vista della sfida contro il notaresco. Quattro stop consecutivi impongono il ritorno immediato ad un risultato positivo. I gialloblu hanno bisogno di un successo per chiudere questa serie. Il notaresco è un avversario in ottima forma, reduce da un pareggio e due vittorie, un cammino che consente agli abruzzesi di giocare la sfida del Ditella con maggiore serenità. Una condizione che ovviamente non interessa la squadra di Bifini, pronta a lottare per il bottino pieno. Termoli in casa del Fossombrone, trasferta complicata per i giallorossi sulle rive del fiume Metauro. La squadra guidata da mister Michele Fucili è imbattuta. Tre vittorie e tre pareggi, un bottino invidiabile per una neopromossa. Il Termoli a parer nostro ha tutte le carte regole per tornare dalla trasferta marchigiana con un risultato positivo. La squadra ha solo bisogno di fiducia per risalire la classifica. Le prestazioni non sono mancate in questo avvio di stagione e ora è tempo di raccogliere i frutti. Tre successi consecutivi per l'FC Matese. La squadra bianco-verde sarà ospite del Fano. Ottimo momento per il collettivo guidato da Corrado Urbano. Obiettivo continuare sulla rotta tracciata e, perché no, cercare il quarto acuto consecutivo. Nuoto Manuel Bortuzzo, nuotatore colpito da un proiettile in un agguato a Roma e oggi nuotatore paralimpico delle Fiamme Oro, sarà l'ospite d'onore della terza edizione delle Stelle del Nuoto del Molise, cerimonia che premerà i nuotatori e le società che si sono distinte nella stagione 2022-2023. L'appuntamento è per domani, a partire dalle ore 18, presso l'Exegillo. Un premio speciale verrà attribuito alla memoria di Alessandro Itzi, capitano della squadra Master M2, prematuramente scomparso nello scorso mese di aprile. Futsal di Serie A2 Letti, il Cus Molise è atteso in casa della Roma, calcio a 5 per la terza di campionato. Capitolini imbattuti con un pareggio e una vittoria. A proposito della sconfitta contro il Canosa, veramente rocambolesca, Denisco. Carlo Denisco, dunque è davvero un grosso peccato questa sconfitta 3-0, 3-4. Pure se siete stati lì la potete portare a casa. Sì, siamo dispiaciuti e delusi da questo risultato perché l'avversario era alla nostra portata, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo andati in vantaggio, abbiamo gestito. Poi abbiamo sofferto il secondo tempo, il loro gioco a 5. Vi ha creato un po' di difficoltà questo gioco a 5 del Canosa perché fino ad allora eravate stati molto precisi. Sì, abbiamo sofferto questo gioco a 5, loro il secondo tempo sono ripartiti aggressivi, noi non siamo riusciti a gestire più il pallone e siamo andati proprio in difficoltà sui loro attacchi. Abbiamo sbagliato una serie di scelte anche sotto la porta, siamo stati anche sfortunati, però la sfortuna di certo non è una scusa. Ci rifaremo, speriamo la prossima. Assolutamente, un campionato comunque come stiamo vedendo anche dai risultati molto equilibrato, non ci sono grossi scarti, questo vuol dire che ogni sabato si dovrà cercare di fare qualcosa. Sì, il girone è molto equilibrato, ci sono tutti più o meno dello stesso livello, quindi le partite si vincono proprio ai dettagli e l'abbiamo persa proprio lì. Ascolta, comunque da parte tua c'è soddisfazione per la doppietta, secondo gol ti faccio i complimenti, davvero molto molto bello perché sei stato rapido, è sicuramente una notizia positiva la tua doppietta anche per il proseguo della stagione. Sì, io cerco sempre di lavorare al massimo durante la settimana, poi grazie ovviamente ai compagni se arrivano i gol, però purtroppo non hanno portato punti, quindi sono solo dispiaciuto. Sempre per il futsal, ma di Serie B, seconda giornata alle porte, lo Sporting viaggerà a Colleferro nell'esordio in cateteria, arrivata la sconfitta contro Sulmona a margine del match, il commento del tecnico abruzzese. Mister del Sulmona, Antonio Ricci, raggiante per questa vittoria 3-0 a Campobasso, dopo un primo tempo obiettivamente equilibrato, avete calciato più, vuoi importa che lo Sporting, che ha calciato sì ma fuori dai pali, almeno questa notazione abbiamo riscontrato, poi nel secondo tempo avete approfittato degli errori altrui. Sì, sapevamo, la prima del campionato è sempre difficile contro anche una squadra ben messa e organizzata come il Campobasso. Immaginavamo questo tipo di difficoltà e quindi il primo tempo, anche perché questo è un campionato in cui si conoscono così bene gli avversari, quindi sia al Campobasso che noi credo che sia stato un primo tempo un po' più volto all'attenzione, nel secondo abbiamo provato un po' più a vincerla e quindi poi il risultato ci ha dato ragione. Sul Monaci è parso una buona squadra, quali sono gli obiettivi? Guarda, gli obiettivi li lascio dare alla società, noi all'interno dello spogliatoio ce lo siamo dati ovviamente e come ho detto anche all'intervista di presentazione, per me è quello di uscire tra gli applausi, dentro che fuori, cercando di dare il massimo, quello che possiamo. È una squadra giovane, abbiamo tre elementi che vengono dal vecchio gruppo storico del Sulmona, ma poi abbiamo preso un gruppo di ragazzi che vengono da solo l'esperienza della 19, quindi è la prima volta che scoprono che Babbo Natale non esiste più. Un'ultima cosa, ma in parte già ci ha risposto, un'impressione sul campo basso? Guarda, una bella impressione, ovviamente era forse più difficile per loro che per noi la prima di campionato. È una squadra strutturata fisicamente bene, ci sono delle capacità tecniche anche non indifferenti, si sbloccherà, nel senso, l'ho vista un pochino più tesa, ma forse, sai, la prima è così, ma credo che farà un buon campionato. Basket femminile di Serie 1, domenica a Palaselva, la molisana Magnolia ospiterà il Ragusa, obiettivo per i fiori d'acciaio e quello di riprendere il cammino interrotto nella trasferta di Schio. Le ragazze di Gocce Sabatelli potranno contare sul fattore casa e sulla spinta del pubblico rosso-blu. Calcio regionale, brutta battuta d'arresto per il Boiano al Colalillo contro la Cliternina. Luca Borreca, per il Boiano brutta sconfitta interna contro la Cliternina, cosa non è andata a tuo avviso? Guarda, brutta sconfitta, sicuramente inaspettata, una partita che secondo me deviamo vincere a tutti i costi. Non ti saprei dire cosa non è andata, non riusciamo a giocare come sempre, le giocate non venivano più pulite, magari alcuni giorni dobbiamo essere bravi a capire che forse alcune cose non mi hanno fatte e fare un gioco magari più semplice, più concreto. È andata così, è una brutta sconfitta, ripeto, inaspettata. Aspettiamo l'inizio della settimana nuova, ricarichiamo le batterie, andiamo a giocarci una partita molto complicata a Campomarino, una squadra che secondo me non merita il posto dove è in classifica e cerchiamo di andare a fare punti là. Diciamo che rispetto ad altre volte magari la manovra è stata meno fluida, non siete stati pericolosi in attacco. Sì, sì, come dicevo prima, la manovra, la costruzione è stata un po' più macchinosa, un po' più lenta e non siamo riusciti a pulire bene le giocate e dare il ritmo alla partita. Purtroppo ci sono giornate che va così, è andata così e ormai dobbiamo solo aspettare la settimana prossima e ricominciare a lavorare. Prima di questa partita siete stati bravi a vincere in Coppa contro il Riccia e poi in campionato invece eravate riduciti da un pari a Venafro. Adesso bisogna ritrovare la strada giusta. Sì, sì, era un periodo positivo, devo dire. Mi ha fatto una grandissima partita a Venafro su un campo difficilissimo. Mi ha fatto una buona vittoria in Coppa Italia contro il Riccia, una squadra che secondo me è forte per la promozione. Purtroppo ci sono dei periodi, dei momenti in cui le cose vanno male, girano male. Ora ci prendiamo tutte le responsabilità del caso, lavoriamo, lavoriamo e basta. È l'unica cosa che possiamo fare. Il Termoli 2016 è riduce da due pareggi consecutivi, entrambi maturati da una situazione di svantaggio dopo la gara contro il Castel di Sangro. Abbiamo avvicinato il classe 2005 Celozzi. Francesco Celozzi, uno dei due gemelli del Termoli 2016, altro fratello Federico Infortunato, è trovato spazio importante perché sei stato il giocatore che ha dato la scossa a questa squadra perché dal tuo piede, quello sinistro, è partito il gol che ha riaperto la partita e che poi ha permesso al Termoli di recuperare la partita di Conte e Castel di Sangro. Contento soprattutto perché sei entrato subito in partita. Sì, sì, contento di aver aiutato la squadra perché il mister mi sta dando più fiducia ultimamente e avremmo potuto fare di più anche nel primo tempo, meritevamo qualcosa di in più. Va bene così, ora testa basso a lavorare. Su quel pallone ti sei catapultato, l'hai messo subito in mezzo, hai calciato col sinistro per metterla in mezzo. Sì, sì, ho visto il movimento di Gianluca e non ci ho pensato una volta a mettere la palla in mezzo. Poi fortunatamente è uscito l'altro gol. Questo è un gol che diciamo te lo assegniamo noi e che ti gratifica anche di tanti sforzi che state facendo tu e tuo fratello. Sì, diciamo che lo sforzo è tanto perché comunque non essendo della zona dobbiamo tutte le volte viaggiare un bel po' e piano piano ci vedono i risultati. Senti, è un pareggio che vi dà morale perché l'avete saputo riprendere la partita in virtù della gara prossima di domenica prossima è abbastanza difficile. Sì, sicuramente non perdere fa morale e cercheremo di prendere i tre punti alla prossima partita. Bocce, il Veneto, ospiterà da domani a domenica i campionati italiani Sitting, Standing e DIR tra il bocciodromo comunale di Padova, il bocciodromo Zellarino di Venezia e la serenissima Venezia scenderanno in campo atleti con disabilità intellettivo-relazionale, atleti con disabilità fisica in carrozzina e giocatori con disabilità fisica in piedi. Gli atleti in gara saranno un centinaio in rappresentanza di società di quasi tutte le regioni. In campo anche l'ex campione italiano individuale Maurio Piacente e Pasquale Evangelista dell'Avis Campobasso. Il paese di Colli al Volturno ha voluto omaggiare il proprio compaesano Domenico Marzullo a vent'anni dalla sua scomparsa posando una targa ricordo nel centro storico del comune. Il 5 ottobre scorso c'è stato il ventennale della scomparsa di Domenico Marzullo, un ciclista che è rimasto nella mente di tutti gli appassionati del settore e naturalmente dei suoi concittadini. Per quel che riguarda queste immagini stiamo vedendo proprio la posa della targa ricordo che nella mattina del 7 ottobre è stata posta sulla ripida salita del centro storico di Colli al Volturno dove Domenico si allenava e ripeteva il percorso per 12 volte. Nell'ordine adesso vedremo l'intervento del sindaco di Colli Emilio Incollingo, quello della moglie di Domenico Marzullo Giuliana Sabatini e l'intervento di Gaetano Rossi promotore del comitato organizzatore degli eventi per ricordare Domenico Marzullo. Io ho sempre sentito parlare di questa impresa che noi facevamo quotidianamente allenandosi e salendo le rampe del centro storico addirittura caricandosi di ulteriori pesi di sacchette con 3 kg di sabbia proprio per rendere più faticosa e arduo l'impegno e quindi penso che sia giusto che ci sia un ricordo permanente e può essere questa un'ulteriore attrazione per il nostro borgo, per il nostro paese. Io ringrazio tutti i collesi di questa bella manifestazione e mio marito era molto legato a Colli e compreso anch'io per me siete tutti nel mio cuore e vi ringrazio a tutti. Siamo riusciti a realizzare un sogno ci stiamo lavorando da un bel po' di tempo altre persone si sono avviati 20 anni fa per tirare fuori la storia di Marzullo noi l'abbiamo fatta, noi l'ha fatto Massimo Vitale l'autore del libro che poi presenteremo in due occasioni tra poco a Colli e di pomeriggio a Isola Liri questa iniziativa è stata presa chiaramente dal comitato che si è interessato per il libro col supporto del gruppo sportivo di Sandro di Colli a Voltunni che vorrei un applauso per Antonio e la Molise di Cambi con gli amici ciclisti del centro-sud quello che vi stavo dicendo perché quando ho chiamato in campagna nelle Marche diciamo in tutta Italia anche dal Piemonte e dal Veneto tutti si ricordano del Marzullo lo portano nel cuore salutano caramente la signora e la famiglia e quindi grazie a voi che ci avete dato questa possibilità a breve verranno delle persone a provare questa salita ma non con le biciclette dovete fare col rapporto che usava lui abbiamo segnato 48-22 quindi dovete sviluppare lo stesso metraggio che sviluppava lui perché se salite col Mundan Bike non hai niente a che vedere questo era giusto perché conosco l'ambiente ciclistico da dove vengo e tutti vogliono fare il gagato Ancora calcio regionale il classe 2004 Pasquale Ruggero sta trovando con continuità la via del gol contribuendo agli ottimi risultati del Baranello Pasquale Ruggero del Baranello match winner insomma insieme a Di Paolo della vittoria con questa vittoria con la Iunes partita insomma non facile molto sofferta hai trovato il gol dopo il primo quarto d'ora l'avete chiusa solo nell'ultimo minuto è stata una gara abbastanza combattuta Sì 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 ci sono state molte occasioni da entrambe le parti è stata una grande vittoria perché abbiamo sofferto tutti insieme come gruppo abbiamo attaccato come gruppo e niente è stata una grande partita e siamo riusciti a vincere Sì il primo quarto d'ora del secondo tempo forse vi siete abbassati un po' la Iunes ha avuto un paio di occasioni poi ha chiesto anche il calcio di rigore non so se insomma tu eri vicino all'episodio sul tiro di Arco non mi ricordo bene questo episodio però comunque calcio di rigore loro calcio di rigore nostro fallo loro farlo per noi le partite sono così ci sono episodi ed episodi però alla fine conto il risultato finale Sì una vittoria che comunque vi proietta vi fa rimanere nelle zone alte della classifica in sei partite quattro vittorie due pareggi insomma sono sicuramente un discreto bottino per com'è il campionato Sì stiamo facendo una grande annata è appena iniziata però comunque ancora non perdiamo e questa è una cosa importante che fa gruppo che comunque siamo un grande gruppo e questo Sì importante quindi accumulare insomma il maggior numero di punti soprattutto fino alla alla nuova sessione di mercato dove qualcosa sicuramente può cambiare insomma non soltanto per voi questo comunque non lo sappiamo noi comunque continuiamo con il nostro percorso con le nostre idee e niente continuiamo con questa testa con questa mentalità con queste gambe perché comunque ogni settimana ci alleniamo al massimo per poi la domenica scaricare tutto quello che facciamo in settimana sul campo Il Busso ha ceduto le armi nel match contro la capolista Riccia domenica la squadra di Martinelli tornerà a giocare in casa Domenico Martinelli allenatore della Chaminade Busso arriva a questa sconfitta 3 a 1 sul campo della Locomotive Riccia partita difficile si sapeva l'avete preparata anche bene cercando di difendere bene rispondere colpo su colpo ci eravate quasi riusciti poi nel finale c'è stato l'epilogo Amaro Sì purtroppo c'è stata un'incomprensione tra il difensore e il nostro difensore centrale che ci è costata cara però insomma c'è stata la prestazione sapevamo che era difficile sono comunque contento di quello che hanno fatto i ragazzi hanno dato il massimo peccato perché mancava pochissimo e avremmo portato a casa un punto importante una squadra quella vostra che riesce a fare ottima densità sotto palla poi è pericolosa anche nelle ripartenze quindi occorre ripartire da questo ma soprattutto da un carattere che nei ragazzi non è mai mancato sicuramente la nostra caratteristica tra l'altro questa caratteristica esce fuori tantissimo nelle partite casalinghe dove il nostro campo ci è favorevole per cui cercheremo già dalla prossima di rimettere in campo tutto il nostro carattere e cercare di far bene presto sicuramente per parlare di classifica ma i punti sono finora a 4 quindi la posizione è un po' complicata quindi occorre riuscire non solo a fare bel gioco ma soprattutto a fare punti perché il campionato è duro e combattuto sì c'è tanto equilibrio la classifica è corta fare un punto qui sarebbe valso doppio purtroppo non è andata come ci aspettavamo ma cercheremo di farci subito in casa e cercando di accorciarla quanto più possibile a partire dall'anno scolastico in corso nell'istituto comprensivo Dovidio sarà attivo un indirizzo sportivo che si prefigge di promuovere e far conoscere il valore educativo e formativo dello sport e i corretti stili di vita il percorso è nato dall'esigenza di ampliare l'offerta formativa della scuola secondaria di primo grado con attività molti sportivi al fine di valorizzare l'educazione fisica e motoria questo nuovo piano di studi prevede settimanalmente due ore aggiuntive dedicate alla formazione sportiva il corso verrà presentato lunedì prossimo 23 ottobre alle 10 presso l'auditorium della Dovidio a Campobasso per gli appuntamenti ancora una mostra di respiro internazionale per l'artista a Campobassano e nostro amico veramente da tantissimi anni Piero Perrino una selezione dei suoi quadri sarà esposta a Cracovia da domani in Polonia naturalmente da domani fino al 3 novembre le opere selezionate rappresentano l'essenza dell'arte di Piero Perrino raccontando il suo rapporto con il mondo e come lui stesso lo interpreta bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio di Piero Perrino